benvenuti in un nuovo video e benvenuti nello spacchettamento con degustabox appuntamento vincente c'era veramente questo mese arrivata super super velocissima infatti voi la vedrete domani che sarà 16 oggi e 15 è arrivata la degustabox e io vi dico sempre le stesse cose ma ve lo dico proprio così velocissimo e chi non l'ha mai ci si ritrova per la prima volta che sia io collaboro con degustabox maggio nell'infobox troverete un link questo link non è affiliato quindi è un link che se vuoi acquistare tramite il mio link io ricevo 50 punti e poi invece di pagare la box 16 euro la pagherete solo 10 euro dal momento in cui confermate l'ordine e pagate l'ordine vi arriverà anche a voi un link con cose sconto da dare ad amici e parenti e così da poter accumulare i punti anche voi e fare risparmiare alle altre persone quindi io direi di aprile non vi faccio vedere come sempre perché altrimenti poi ci spoileriamo tutto e quindi no deve essere una sorpresa devo dire che questo mese rispetto al mese scorso era bella pesante anche perché è settembre che è sempre pieno di bolle e maronna mia madonna vado vai di nuovo però sono completamente diversi l'altra volta era le olive non mi ricordo comunque velarte proprio lo stesso marchio nuova ricetta più natural da te non penso che sia lo stesso marchio dell'altra volta vabbè comunque sono tipo delle schiacciatine all'arachidi allora schiacciatine di pane con arachidi eccola qui ovviamente poi vedremo se riuscirò a fare una 24 ore ci siamo sempre riusciti quindi speriamo vai pescato su io e allora mi sono andrata emozionata parola mia golia golia jelly c con vitamina c con vitamina c ripieni con succo di frutta caramelle morbide allora raga ma quanto mi ispirano quanto? era nella scorsa che uscirono le caramelle le stagioni d'italia questo è proprio perfetto bioinfuso a finucchio sgonfiante eccolo qui ci deve sempre stare secondo me adesso più ci avviciniamo al periodo invenenale ci vedremo sempre delle tisane come nello scorso video quindi andate a vedere ecco qua infatti si sente il profumo infatti si io mamma mia sento io sono già super contenta anche io ok noi ce l'aspettavamo neanche oggi vai pesca nooo che cosa è la tigella ok no spoiler casa della fiata la tigella emiliana no vabbè ma quante faccio la challenge? un minuto no vabbè dai un minuto ma questa non si mangia ma questa penso che non so che si aprono e un po' di vedi ci sta no forse se ne fanno due non lo so non lo so chiediamo io da casa poi tanto domani scopriremo tutto come dobbiamo mangiare secondo me si aprono e c'è la rupola si si partisce proprio un po' di stracchino un po' di però l'altra versione si ovviamente sempre ben imballata eccola qui una birra rossa darp scura della COSEL come si dice COSEL birra scura quindi è una rossa ecco la qui scuosa vedi scura scura quanto fa no leggera io non me ne intendo bai anche se io penso che ci sarà una cosa oooooh oooooh latte mai provato ma proprio il marchio polenghi lombardo 100% italiano parzialmente scritto non guardare in giù no non sto guardando in giù eccolo qua un litro è un litro no vabbè adoro pesco io ehm si pesco io no 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 vai soffritto o pronto? soffritto o pronto? cipolla nuovo cipolla della canora mamma questo è tutto tuo questo è tutto tuo per far soffriggere molto veloce pratico pratico e in dolore ok quindi da cipolla un piatto e basta aspira sei com'è comodo a volte subito dovete subito fare ok vai pesca oh io la vedo bella piena eh ma roveremo sti cosa la vedo poco nero oooooh preparato per gran pinza la romana ehm allora dobbiamo fare la pinza ah allora con una bussina di lievito secco attivo sta dentro non lo so non lo so quindi mammozzo metti le mani in pasta perché questo è il compito tuo visto che in quarantena siamo un po' tutti specializzati ci vuole dire qualcosa forse? non lo adoro molino spadoni cosa abbiamo provato da molino spadoni anche qualche altra cosa no non ricordo comunque raga io non vedo l'ora di fare questo a ventiquattro ore no ma mi aspettavo qualcosa in più nella box di settembre perché settembre è sempre un mese speciale credo che è finuto no 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 dai questi li volevo oddio addorro lo hacker diciamo che ci siamo un po' acculturate acculturate l'anno scorso di lo hacker vi lascio il video giù nell'info box chip choc sono i biscotti con le gocce di cioccolato di San se avete preso la box di questo mese l'avete vinto anche voi raga forse è stato ancora in tempo ad ordinarla dopo questo video e penso che vi arriverà quella di settembre sì penso di sì non lo so quindi raga non lo so però eh eccolo qui ok vai scusa non li ho presi no no perché si ti sono sbagliato la box ma c'è ancora tanta roba qua dentro che cosa nooo abbiamo visto il video su tiktok dove ci metteva tipo il latte oh no oddio no ho sempre voluto provare e quindi non vedo loro no allora la 30 oddio aspetta ma mica è solo microonde no è anche con l'acqua frana no penso che c'è solo l'acqua io penso che ci sia la verdura all'interno i funghi no che bel franzetto no eccolo qui sono i noodles dopo li devo contare tutti i prodotti perchè mi sembrava di più rispetto agli altri ma dora raga ma è già il pecco non ho le bacchette teriyaki ci potete mettere le bacchette alle due pronti in 3 minuti poi dobbiamo capire un po' va bene prossimo vai giulia tu no eh raga qua è sempre la crisi allora io tiro fuori una cosa che ho visto no allora non l'avevo visto bene perchè pensavo che erano le bacchette si falla domani falla domani la challenge no non la posso fare domani nooo kinder cereale biscotti ai 7 cereali cacao madò io c'è anche qualche attraversione secondo me si integrale solo no no ma sono uscite altre barrette no questo ho biscotti però beh ma vabbè io pensavo che erano i papisini invece no vedete non mi sono spoilerata niente no io sono contentissima no scioccata riso mais grano segale grano saraceno avena farro e cacao la verità che è molto bilanciata mi piace è bilanciata alla perfezione questa box si veramente tutti vi amo vado vi amo quante cose ci mancano ancora non so penso sia per si ho capito cos'è infatti se la sei chiamata ma come ma mangia la pasta questo sta bravo wow grano oro grano oro dedicato alla nostra terra solo grano di puglia macinato in terno mamma mia il numero 110 spaghettone integrali solo grano di puglia no 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 eh raga questa sicuramente ve lo dico sicuramente la prepareremo in qualche vlog si eccola qui no vabbè ma quanto posso amarla no troppo soddisfatta mancano poche un altro è uguale due quindi solo due quindi chiudo io se non c'è qualcosa ancora si e mi sa che chiudo io sì ah 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 santal ah c'è il mio uso preferito si è un preferito si è un preferito si è un'arancia rossa prego guarda quanto tempo non ci rimaniamo questi cosi dolce di natura senza zuccheri aggiunti arancia, carote e limone per i vostri bimbi che devono andare a scuola e ci voleva qualcosa e infatti noi poi giù ne stavamo parlando prima ma chissà forse sarà un po' tema back to school alla fine se guardi sì ok io sono ah dobbiamo fare l'altro ok io sono super super felice di questa box e a pensare che mese prossimo ne arriveranno due cold box e questa box ok ok non ci resta che vedere un po' il prodotto del mese adesso possiamo vedere queste brochure quello che amiamo di degusta box e che riserva degli ulteriori sconti a coloro che acquistano la box sì tipo adesso spoileriamo c'è uno sconto per quanto riguarda il calendario dell'avvento di degusta box molto vantaggioso molto vantaggioso che ho preso l'anno scorso in ignara comunque da questo sconto sì perché non l'avevamo mai trovato e quindi io già comunque ero super mirato a prenderlo ma adesso ho ancora di più perché ragazzi quando c'è lo sconticino ci piace ancora di più pronti vai a te la lista il prodotto del mese il prodotto del mese è il Kinder Cerealee 2,49 euro poi Knorr e soffritto 2,30 euro la tisana 1,59 euro la birra 1,50 euro la pasta granoro dedicato 1,29 euro i snack velarte 1,50 euro i biscotti lo hacker 2,39 euro molino spadori quindi preparato per pizza no per pizza la romana perché c'è anche per la gran pizza la napoletana 2,49 euro perché poi ogni box diciamo riceve penso esatto non è mai sempre uguale cioè nel senso qualcuno riceve la rinsa qualcuno riceve ok però l'hanno fatto buono a darci la rinsa poi Golia 1,69 i succhi Santal 1,49 Polenchi Lombardo sarebbe il latte 1,39 casa della piaga le tigelle 1,49 e i cup noodles 1,99 comunque questa box ha un valore di più di 30 euro non dico forse tra le più belle però si se la merita ma a parte perché ti ha dato la farina per fare la grana cioè la pizza e quindi bella raggio si ti puoi divertire con questi prodotti si ti posso mangiare bene perché l'importante è mangiare bene e la prossima allora dove sei? mi chiamato già ok e noi speriamo che questo video vi sia piaciuto che poi non lo vedranno noi siamo molto io so che poi io registrò la challenge nella settimana è il nostro compleanno è bello speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao